sono felice per tutte per tutte noi cosa dire è stata una partita veramente dura sofferta insomma faccio fatica ad essere lucida e talmente tanta la gioia noi avevamo tutto da perdere loro hanno fatto la partita della vita quindi quando l'abbiamo sbloccata poi naturalmente è stato tutto più semplice però è bellissimo e secondo me è uno dei più obiettivi più belli in assoluto della mia carriera stato un anno davvero tribolatissimo per tanti tanti problemi che abbiamo avuto tanti infortuni e le ragazze non lo so ci si è sempre compattate non abbiamo mai mollato abbiamo fatto esordire 99 giocatrici in serie a e tra cui tra alcune veramente giovanissime questa serie di infortuni ecco che arrivano che è stata un'annata veramente incredibile perché adesso lo possiamo dire abbiamo avuto veramente delle difficoltà enormi abbiamo scalato una montagna tutte insieme tutte insieme perché se guardiamo i tabellini abbiamo cambiato praticamente sempre formazione ogni ogni partita abbiamo cambiato formazione perché ne mancavano sempre tre quattro cinque però siamo arrivati alla fine grazie al gruppo meraviglioso delle ragazze esatto la società che veramente insomma tutta la società del sassuolo che sempre sostenuto con lavorato per il meglio cercato di risolvere ogni tipo di problematica e soprattutto dopo le tante sconfitte ci sono stati sempre vicini mai venuta meno la fiducia da Betti dal presidente a tutti a Alessandro Greta a tutti tutti voi che siete qui le ragazze sempre unite nonostante le battoste continue c'era un gruppo bellissimo dicevano sì ma la squadra è forte certo che la squadra era forte l'abbiamo voluta noi e la società ci ha contentato in tutto gli acquisti tutti ottimi però purtroppo abbiamo contato 14 infortuni non erano mai a disposizione tutte contemporaneamente e quindi insomma è stata dura è stata dura però è uno degli obiettivi più belli che l'ultimo allenamento di rifinitura che abbiamo fatto ieri le ragazze proprio felici di stare insieme come è andata l'importante è stato il risultato non c'è più voce è stata pesantissima no vabbè dai è stato bellissimo basta adesso possiamo andare guarda sono arrivata proprio alla fine non si può arrivare quando le scarpe così vabbè dai guarda bene ormai niente basta niente abbiamo è stata insomma è stata bella tirata l'abbiamo portata supplementari giusto perché quest'anno non l'abbiamo mai fatto più ma sì è per mantenere un po' di sospanso fino alla fine no a parte gli scherzi è stata insomma è stata bella combattuta fino alla fine siamo riusciti a stare tranquille e al momento giusto trovare i gol ho stretto i denti fino alla fine infatti adesso non ce la faccio più sono bellissimo ma a parte gli scherzi era una partita importante l'ultima partita adesso due mesi per riprendermi ho stretto i denti fino alla fine insomma c'era bisogno di metterci tutto quello che avevamo insomma siamo riusciti a portarci alla casa finalmente finita ho pensato di stare più concentrata possibile e di fare gol appunto come ho detto anche tutte le ragazze ho vinto l'ennesimo scudetto quest'anno perché veramente è stata dura è stata lunga ci sono stati un sacco di problemi però penso che questo gruppo è stato più forte di tutto quello che c'è stato comunque è stata una prova di carattere anche per me perché comunque entrare in una realtà così con tante ragazze comunque nuove bisognava mettersi insieme poi una società che comunque sta crescendo e quindi è stato difficile per tutti è stata una bellissima prova di carattere e l'importante è che ne siamo venuti fuori quindi sono felicissima penso che se non sei sul campo non puoi descrivere la parola ma solamente solo emozioni che che vivi nel rettangolo di gioco ho voluto tanto quindi se all'inizio tensione tutto ma poi siamo contenti contentissimo adesso sapeva che la partita era tosta e immaginavamo che dovevamo dare il 110% e siamo arrivate supplementari stanche ma con la voglia di raggiungere il nostro obiettivo e ce l'abbiamo fatta. Dovevo chiudere in bellezza e sono molto felice per il mio primo gol in campionato alla chiusura di questo campionato difficilissimo e è pieno di emozioni sia positive che insomma un po' negative ho presato il difensore ho recuperato palla soprattutto col portiere manomale ne avevamo di più dai loro sono state brave una partita secca è sempre difficile però ce lo meritavamo ce lo meritavamo